800 mila euro per il velodromo di Barletta, il contributo di Forza Italia nella manovra finanziaria. Il senatore azzurro Dario Damiani ad annunciare con soddisfazione il finanziamento dell'importante somma destinata alla riqualificazione del velodromo dello stadio Lello Simeone di Barletta. Il contributo è stato inserito nella manovra finanziaria grazie alla collaborazione e alla prontezza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi di Sport e Salute e dell'assessore del comune di Barletta Marcello De Gennaro. Damiani, relatore della manovra finanziaria, ha sottolineato il rapido passaggio dalle parole ai fatti evidenziando l'importanza del lavoro di squadra che ha reso possibile questo nuovo traguardo per lo sport barlettano. Il finanziamento mira a rendere il velodromo idoneo all'inserimento nel circuito nazionale della federazione ciclistica come centro federale. L'impegno preso durante l'incontro del 15 novembre scorso a Roma tra il ministro Abodi e una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Barletta è stato quindi concretizzato. Damiani ha ringraziato il sindaco Mino Cagnito e l'assessore allo sport De Gennaro per la tempestività nel garantire il successo di questa iniziativa. Il senatore ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro al neo-assessore all'ambiente Giuseppe Dalba evidenziando l'importanza di questo settore nel dibattito politico e sociale. Guardando al futuro Damiani ha già sondato la disponibilità del ministro Picchetto Fratin per una visita a Barletta con l'obiettivo di discutere sulle tematiche ambientali locali più urgenti. Questo finanziamento conclude Damiani rappresenta un ulteriore passo avanti nell'ambito sportivo cittadino riconoscendo e valorizzando le potenzialità di Barletta e ribadendo che questa è la strada maestra per garantire stabilità amministrativa ad una città così importante, sottolineando la buona politica messa in atto dal sindaco Cagnito in questi anni.